Sono due set molto buoni, poi c'è stato il terzo da cancellare, l'importante sono stati poi i tre punti, la vittoria finale 3-1, bene così. Sì, partita a un livello basso, dico basso di intensità, un po' spento, da tutte e due le parti devo dire. C'erano anche azioni bellissime da tutte e due le parti, come anche quelle veramente inguardabili. Non so se era orario, cos'era il motivo, ma è andata così, terzo set, comunque all'inizio abbiamo giocato male, siamo partite lente, non so perché, poi comunque verso la fine c'era di nuovo il nostro gioco, che vabbè era difficile riprendersi così tanto e comunque Club Italia ha meritato al 100% quel set là, però poi anche il quarto abbiamo giocato il nostro gioco e abbiamo portato a casa questi tre punti che per noi in questo momento sono importantissimi. Tutti sei confermata come nell'ultimo periodo, 4-7 più o meno sullo stesso livello, sempre concreta, compresi i due punti finali. Io penso che è normale che una dopo la gravidanza e parto parte un po' lenta. Io sto rimettendomi in forma, come si vede, sto crescendo, comunque non è che posso migliorare così velocemente, non posso ritornare in forma così velocemente, comunque il mio corpo è cambiato due o tre volte in due anni, quindi pian piano ci sono e pian piano aiuterò sempre di più a questa squadra che è un'ottima squadra. C'era un po' di ansia per ritrovare i punti che mancavano in campionato? Comunque era una partita dove non bisognava fallire. Sicuramente che noi sentiamo la pressione di fare i più punti possibili da oggi fino alla fine, però sinceramente da parte mia io sono entrata rilassata e sciolta perché voglio ritrovare il mio gioco e poi so che i punti verranno perché siamo una squadra con le persone individualmente molto forti come giocatrici e che quando giochiamo bene siamo veramente fortissime.